maschera viso alle carote benvenuti nel mio canale se non siete iscritti iscrivetevi sul canale youtube instagram gruppo facebook e date un'occhiata sempre al blog mi raccomando non dimenticatevi di accendere la campanella per potervi tenere sempre aggiornati sui nuovi video che caricherò gli ingredienti scelti per questa maschera sono ingredienti che possono aiutare l'idratazione migliorare l'elasticità e la luminosità della cute come avete già visto ho utilizzato la centrifuga per avere una maschera più uniforme in modo che non mi cadesse questa di zizifus la polvere che ho preso dalla dall'albero stesso c'è un video apposito su quello quindi gli ingredienti saranno un cucchiaino di zizifus in polvere un cucchiaino abbondante di polpa di carota e per non perdere i principi attivi della carota perché comunque sono dentro al succo ovviamente della carota io ho aggiunto anche un cucchiaino di succo di carota e infine il miele che è un ottimo antibatterico idratante fa benissimo un cucchiaino anche di quello mescolate per bene in modo che sia uniforme tutto il composto e sarà molto molto facile applicarlo sia sul viso e che su zone del corpo dove ritenete che ci sia bisogno di idratazione e vi faccio vedere sulla mia cute comunque io normalmente rispetto tempi di riposo della pianta stessa e di sanificazione che si fa per i batteri trovate dei video appositi su questo sul mio canale youtube lo tenete in posa 10 15 minuti e una volta passato il tempo potete anche toglierlo con l'acqua tiepida questo è tutto spero di esservi stato di aiuto ci vediamo nel prossimo video